Se qui ti fa effetto, ci dormo io, tu puoi andare in camera mia. No, non importa. Come sta tua sorella? Sono anni che non la vedo. Adesso è una grande star. Perché non si capiva? I vincenti si riconoscono alla partenza. Riconosci i vincenti e i brocchi. Chi avrebbe puntato su te? Io avrei puntato tutto su te. E avresti perso. Beh, sei stanco. Buonanotte. Buonanotte, Mo. Grazie. Che hai fatto in tutti questi anni, Noodles? Sono andato a letto presto. Già. Grazie. 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 Grazie.